La cosa che mi inquieta in questo è pensare che non si torni a scuola perché l'emergenza sanitaria è comunque troppo importante, questa è la cosa che mi inquieta di più. Il resto secondo me tutti noi dobbiamo far ricorso alla nostra saggezza, al nostro equilibrio, ai nostri strumenti culturali per poter intorno a noi cercare di mantenere questo tessuto di relazioni su temi giusti. Io non credo che interrogarci oggi su ciò che stiamo perdendo sia la cosa principale, oggi interroghiamoci sulle energie che riusciamo a metterci per fare in modo che non si perda tantissimo.